con cittadini con cittadini snitch ma concedi questo ma non mi sta fuori quella cosa grazie no no ma estrella ce l'ha quelle cose no ma io mi sta fuori quella cara io no io si io no portieri ma stupendo bello eccolo ciao bichet grande belli l'ha segnato grandi artusi ogni tanto arriva mazzo baffo sempre delicato l'ha segnato l'ha segnato l'ha segnato non può che essere positivo no sono dieci che mi mette le quali c'è spesso e volete voglio affrontare quello che i capelli azzurri ora qui la verticalizzazione grazie mamma mia ha sospeso hanno sospeso da finiti perché cazzo non so cosa ha scritto cazzo ha scritto l'hanno sospeso no 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 tutto in grande perché il bot l'ha sospeso oh ok l'ha segnato ma io sì e apre il piattone ecco ma vici c'ha 5 mila account di twitch vici porcellino e vado a abbracciare strella perché enti con tutti questi account ha detto take ha detto è a 50 account oh ragazzi che azione concludiamola vi prego no mamma mia ragazzi che azione cazzo che azione mamma mia dai pedalino vai andi take bel passaggio porca trova no bella azione bella tutta o lì oh che azione ragazzi mamma mia mamma mia non so perché il portiere si è entrato occhio al pallone in mezzo interviene bene e spazza dai conto piùissimo dai bravo bravo ma ragazzi tutto è nato non colpo di testa mio indiferenza mamma mia incredibile mai visto e abbiamo annullato di nuovo vai gianni a metri per andare no va bene va bene si si va bene è lo stesso super e vai saluta tutti va bene 9-1 mamma mia mamma mia ragazzi che pomeriggio che live che spettacolo va bene ragazzi c'è no no notare bene 65esima posizione notare bene ragazzi notare bene cazzo tanto accendiamo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.